Attenzione ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, siamo qui con un deck spettacolare, siamo qui con lo Structure Deck Bestie Sacre in italiano, prima edizione, è uscito da pochissimo, quindi andiamo subito a fare l'apertura di questo Structure, come si dice in inglese? Structure? 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 Vabbè, comunque avete capito? E andiamo a vedere cosa c'è all'interno, allora purtroppo sicuramente per aprirlo questo si rovinerà, forse no, aspettate, forse non lo rompo, forse riesco a non romperlo, zitti zitti, ok, e invece si è rotto lo stesso, però non malaccio, non malissimamente, quindi questo si richiude così e posso lasciarlo da parte lo stesso E adesso, attenzione, perché abbiamo qui, oh, attenzione, attenzione, abbiamo il tappetino, quindi adesso tireremo fuori anche le carte, però prima voglio aprire il tappetino per vedere cosa c'è all'interno, anche se non riesco ad aprirlo, ecco, attenzione, concentrazione, con calma, questo adesso lo apriamo e, oh, tutte e tre le bestie sacre, spettacolare Allora, questo adesso, mi sa che lo lasciamo qua sotto come sfondo, mi sa che ci sta proprio bene, attenzione, colpo di scena, questo lo usiamo per il video, tanta roba, ecco fatto, anche se al momento non si regge, quindi io ci metterò, ecco fatto, uno, due, tre Tanto questi qua, adesso ci volevo appoggiare le carte, io che, le carte che c'erano nello structure deck, e quindi, ecco, almeno mi regge pure giù il tappetino E andiamo a vedere le carte che ci sono all'interno, alcune già le so, altre invece no, quindi, come si fa per, per prendere carta all'interno? Non lo so, non lo so, aspettate, aspettate ragazzi, con calma, perché dentro c'è sto cartoncino qua, che non mi fa uscire il deck Quindi non so se devo piegarlo, che c'è sta scritto? Non c'è sta scritto niente Ecco, devo riuscire a far così, attenzione ragazzi, attenzione perché non ho mai aperto uno structure deck di Yu-Gi-Oh! L'ho sempre lasciato i sealed, quindi adesso per tirarlo fuori qua ci vuole un genio Ma che cacchio si fa? Cioè, ti pare che devo per forza romperlo? No! Ma niente, sì, devo scollare per forza, non lo so, non lo so, perché fanno così? A questo punto se lo aprivo da sotto era meglio, no? Bastava dirlo, uno lo apriva da sotto No, non lo dite che bisogna aprirlo da lì, eh, bastava togliere sto cartoncino del cacchio E adesso andiamo a prendere il mazzo Attenzione! Spettacolo subito come prima carta, però prima devo levare a sto cartoncino perché è abbastanza orrendo E lo lanciamo, ah, gli ho preso in testa Mettiamo lo structure deck, insomma, già aperto Qua dietro, la dietro come potete vedere a sfondo ce ne sta uno in inglese Ma lo lascerò appunto sigillato così per collezione E adesso andiamo a vedere dove sta, diciamo, l'inizio del... cosa per aprire... Dove cacchio? Ah, eccolo Attenzione, ma io dico, ce ne sarà del spazio per mettere... Io non pensavo comunque che fosse così difficile riuscire a aprire un... un coso di Yu-Gi-Oh! Cioè, mettete... cioè, bastava mettere una semplicissima linguetta laterale Già pronta, già pretagliata Tu faci così, tu... lo aprivi, finito No! Troppo facile Cerchiamo di nasconderla bene in modo che uno non lo trova e deve stare a sfogliare tutto il mazzo delle carte Oh, non è possibile, non la trovo Non la trovo, ragazzi Ecco, ce l'abbiamo fatta Dopo 30 ore, finalmente... non ci siamo riusciti Ma non è possibile Non è possibile, ragazzi Mi tocca far per forza... Eeeh... adesso, no? Io dico... ma porca di quella puttana troia bastarda, zoccola schifosa Ma vaffanculo, ma mettete un cazzo di coso che si apre bene, no? Non che devo stare per forza a faccolunghi che mi si graffiano le carte E che cazzo? Ma siete coglioni? Boh, proprio stupidi Che cazzo non ha incartate così? Ma fatele bene che si apre facile senza rovinarle, no? Proprio teste di cazzo, sono proprio teste di cazzo Mmm, vaffanculo Tutta questa parte la taglierò In cui dico le parolacce a raffica Togliamo sta merda di sleeve Mmm, attenzione ragazzi Ma ti diamo la calma perché sono le bestie sacre quindi Allora, io direi di fare così Una carta per volta, la vediamo Facciamo prima Abbiamo Raviel, il signore dei fantasmi Colpo lucente Prima edizione SDSA Hit 001 Tanta roba questa qui Guardate che artwork Pazzesco Questo lo mettiamo subito nella sleeve Sperando che anche la sleeve non ci dia problemi Altrimenti Eh, spasciamo tutto il baffanculo Niuina Baffanjuina E mettiamo Prima carta Nella sleeve Spettacolo La mettiamo subito Qua dietro verso il centro Più o meno al centro Perché poi lì c'è stata scritta Se no poi si copre Tutto quanto Mmm Poi andiamo con La seconda carta Attenzione che si spoilerà tutto Abbiamo Uria Signore Delle fiamme ardenti Ultra rara Prima edizione Spettacolare E anche questa La mettiamo subito Nella sleeve Ragazzi Questo è un video molto tranquillo Con calma Io non lo so fare per me Quindi Non me sto sbrigare Diciamo Per i tempi Intrattenitivi Dei video Diciamo Ecco appunto Me lo so fare per me Con calma Me li mettono nella sleeve Come se non ci fosse La telecamera Come sempre D'altronde E mettiamo Attenzione Uria Signore delle fiamme ardenti A sinistra Poi Andiamo con Oh Hamon Signore Del tuono Fragoroso Anche questa qui Spettacolare Altra bestia Sacra 4000 4000 Vabbè Effetti Tutte le cose Non ve le leggo Perché tanto Ne trovate A migliaia Di video Di foto Di iscrizioni Di siti Di link Di tutto quello Che vi pare In cui Ne parlano Quindi Questo qua Non è diciamo Un video Appunto Spiegazione O diciamo Per informazione Solo per vedere Quello che ci sta All'interno Del structure deck Che fino adesso La cosa difficile È riuscire A aprirlo Poi abbiamo Attenzione Raviel Il signore Il signore dei fantasmi Nella forma Quella lì Originale Che si trovava Anche nei pacchetti Che si chiamava Shadow Of infinity In italiano era Ombra dell'infinito Mi sembra che era In italiano L'espansione In cui si trovava Sta carta Spettacolare Io c'ho la prima Edizione ultra rara E la mettiamo Nella sleeve Anche questa Anzi Questo adesso Lo spostiamo Di qua Questo lo spostiamo Di qua Così abbiamo I due Raviel Al centro Spettacolari E poi Amon e Uria Di là E attenzione Perché qui abbiamo Il mostro fusione Tra Uria Amon E Raviel Tutti e tre insieme Armitile Il fantasma Del caos Spettacolare Startwork Anche questo Esisteva già Però non mi ricordo In che espansione Si trovava Però tanta roba E mettiamo Subito Nella sleeve Anche questo Sempre se C'ho lo spazio Da mettere No Devo prendere Un altro stand Attenzione Mettiamo il mostro Fusione di qua Anche se Sta al centro Diciamo per Per come si dice Per ragioni Di estetica Questo qua Avrei dovuto Mettere al centro Però è ormai Troppo tardi Poi andiamo con Fuoco Del cielo Cureleo Curuce Cureleo 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 Come puoi dire Cureleo Se c'è scritto Ceruleo Che ovviamente Ceruleo è una parola Molto più utilizzata Tutti i giorni Quotidianamente E tutti la conoscono Bah Però Attenzione Perché abbiamo Un Amon Nell'artwork Spettacolare Infatti Serve Per regolare Specialmente Amon Eccetera Eccetera E mettiamo Anche questa Nella Sleeves Le Sleeves Sono quasi finite Quindi è un bello problema Quindi fammi le tira fuori tutte Così ci avvantaggiamo Se no ogni volta Sto a tirarla fuori Ci metto un'ora Eccola qua Mettiamo anche questa Carta magia E la mettiamo Proprio nella zona Magica e trappola Senza stand Perché non c'ho voglia Poi andiamo con Iper Fiammata Carta trappola Continua Che non metto a fuoco Anche qui un artwork Spettacolare Di Uria Per evocare Specialmente Uria Eccetera Eccetera E la mettiamo Nella Sleeves Eccola qua Ragazzi Questo vi avevo detto Che era un video Che andava fatto Con calma Anche se Purtroppo Diciamo all'inizio Non c'era molta calma Perché non riusciva A aprire La cosa Però Capita Distruzione Fusione Dimensionale Tutte e tre Le bestie sacre Bandisci dalla tua mano Terreno Vabbè troppo lungo Non ve lo leggo Ci sono 30 anni Però artwork Mamma mia Che roba Pazzesco E quindi lo mettiamo Nella Sleeve Mi è rimasta solo Una Sleeve Quindi non so Per chi la utilizzerò Comunque abbiamo Già 6 card 3 6 7 8 carte Belle ignoranti Adesso queste qua Andiamo più veloci Perché Non sono neanche più super rari Abbiamo Nucleo Del caos Poi andiamo con Bestia Richiamo oscuro Bestia Evocazione del caos Bestia Evocazione oscura Fantasma del caos Spaccacielo Fantasma Ricaricatore folle Questo ce l'ho Super raro Limited edition Si trovava all'interno Di un gioco GX Una cosa del genere Poi abbiamo Squirmer Della tomba Dragor Cobaleno scuro Questo lo devo mettere Una sleeve Perché mi piace Tragoedia Tragoedia Vabbè non so la pronuncia giusta Anche questo è un bel ignorantello Poi abbiamo Radian Il caju Il caju multidimensionale Cacciatore del caos Maestro dei pupazzi Pattuglia stradale Stiaccia Farea Vabbè ragazzi Io alcune carte Neanche le conosco Quindi qua Vado veloce Inutile Pericolo Quindi è inutile Che ci sto Tanto a dirvi Tutti i nomi Perché Martiri Fantasma Ce l'ho Ultimate Prima edizione Dell'espansione Della prima volta Che l'hanno stampata Insomma In italiano Poi abbiamo Terraformare Rotazione del set Monte dei creditori Uno per uno Tutti per tutti Inizio della fine Giara dei desideri Questa pure Ce l'ho Ultrarale Qualche espansione Non mi ricordo Quale Il giro del padrone Barriera terreno Spade medificatrici Questa è uno dei primi set Proprio c'erano Tifone spaziale mistico Risveglio Ecco questo qui Bello De artwork Risveglio Delle bestie sacre Anche questa La metterò Nella sleeve Fuga della dimensione scura Mutaforma sorella Questa qua La usavo In un deck Sulla Qua era Sua PSP Boh vabbè Non mi ricordo Poi abbiamo Spaglione Imperatore fantastico Fantasma Trilogic Segna Ah bello questo Questo subito Nella sleeve Segna martire Fantasma E segna Fantasma Bellse due Le metterò Nella sleeve Poi Attenzione Questo cos'è Boh non so Cosa siano Però carine Queste da mettere Nella sleeve Anche queste Per mettere Nell'album Carino Sono soddisfatto Ragazzi Sono soddisfatto Di questo Structure deck Che costa pochissimo Per tutte le carte Che ci dà Cioè Due Quattro Cinque Ultra rare E tre Super rare Più due Segna Mostro Spettacolare Più Qual'era lì Qual'era quell'altra Drago Roccobaleno Scuro Cioè Un botto De roba Però dove sta Dove sta Spagli 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 E poi qui Vabbè Ci sono altri Disegni Mostro Li metterò Nella sleeve Più tardi Comunque Per oggi È tutto Ragazzi Questo video È partito Diciamo Con un po' Di foga Perché Allora Io volevo Aprire Questo Structure deck E sbrigarmi Perché sennò Durava troppo Il video E appunto Poi dopo C'era Tita fa Nate De fretta Io lo so Che C'era Tita fa Quindi volevo Farlo veloce Solamente Che C'ho avuto Un piccolo Problemino Con la pellicola Che adesso L'ho Frantumato Era questa? No Non era questa Era questa E alla fine Ce l'abbiamo fatta Ragazzi È stato molto difficile Stavo per lanciare Tutte le carte In aria Però Ho dovuto Mantenere la calma E niente Per oggi è tutto Seguite Adesso pubblicherò Le foto Di tutte le carte In più Altre carte Eccetera Eccetera Che c'ho Che non c'ho E niente Like Subscribe Share E tutto quello Che volete Raga Proprio bello Proprio bello Structure deck Mamma mia Tanta roba E comunque Vabbè E al prossimo video Ragazzi Anche se di Yu-Gi-Oh Spacchetto poco Apro poche cose Però questo qui Mamma mia Cioè Già solo L'artwork Del mazzo Già meritava Cioè Solo già da questo qui Meritava ad essere preso Poi con queste carte Spettacolari E niente ragazzi Like, suscrivete, share E tutto quello che volete Basta roba E tutto quello che volete E tutto quello che volete